Buonasera a tutti, sono Alberto Gardini, uno dei curatori di Pordenone Legge, voglio farvi saluto da parte della fondazione, degli organizzatori, dei curatori e soprattutto ringraziare Massimo Recalcati di essere... Allora rifaccio tutto da capo perché siamo in diretta sulla Pordenone Legge TV e quindi ripeto quello che ho detto, ma volevo ringraziare, sono Alberto Gardini, uno dei curatori di Pordenone Legge, volevo ringraziare tutti voi da parte della fondazione, dei curatori, di tutta l'organizzazione di Pordenone Legge, augurarvi buon incontro e buon proseguimento e soprattutto ringraziare Massimo Recalcati di essere stato nostro ospite, Massimo Recalcati è un grandissimo amico di Pordenone Legge, questa sera ci parlerà del grido di Giobbe, come sapete il grido di Giobbe è un grido che ancora oggi ci interpella molto, di questo uomo che si trova in questa condizione disperata per una sorta di gioco metafisico che viene fatto e che in qualche modo ci racconta anche la nostra condizione umana e quindi invito a salire sul palco Massimo Recalcati e gli lascio la parola per questa intensa lezione. Grazie ancora. Buon pomeriggio a tutti, grazie Alberto per questa presentazione e questo invito, è sempre una festa per me essere qui con voi a Pordenone. intanto è un piacere ritrovarvi e ritrovarci in presenza e non è così scontato perché in fondo avremmo davvero potuto non essere più, non esistere più. molti sono scomparsi, abbiamo perso probabilmente tutti almeno una persona cara in questa tragedia. Il genere umano sarebbe potuto, ripeto, scomparire e se fosse scomparso, se fosse davvero scomparso, se fosse davvero stato annientato dal virus, la natura non se ne sarebbe accorta. La natura avrebbe continuato il suo ciclo indifferentemente. I sassi, gli alberi, i pesci, gli uccelli, le formiche, la terra, il cielo non hanno bisogno di noi. La natura non ha bisogno dell'uomo. La grande rappresentazione della natura come macchina impersonale, cieca, che ci dà Lucrezio e che Leopardi riprende descrivendo la natura come fondamentalmente matrigna. Perché matrigna? Perché indifferente al dolore e alla sofferenza dell'uomo. E' qui che possiamo convocare lo spirito, la figura di Giobbe. Perché se la natura si rivela come radicalmente indifferente alle nostre vite, avremmo potuto scomparire tutti e tutto sarebbe andato avanti egualmente, senza di noi, diciamo. Al tempo stesso, una delle caratteristiche più profonde dell'essere umano è quella di invocare che vi sia, in questo mondo, al di là di questo mondo, qualcuno che risponda alla sua invocazione. Giobbe, in questo senso, il grido di Giobbe, in questo senso, è una figura radicale della preghiera. E si può dire che all'origine della vita, all'origine della vita umana, noi troviamo la preghiera. La pulsione a pregare ha la stessa forza, se posso esprimermi così un po' brutalmente, della pulsione sessuale. È qualcosa di originario nell'uomo. L'umano ha sempre pregato. E perché l'umano è questo animale che prega? È un animale che prega perché ha bisogno che qualcuno gli risponda. Ha bisogno di non sentirsi, appunto, abbandonato nell'indifferenza della natura. Da questo punto di vista, noi siamo tutti un grido, noi siamo tutti una preghiera. E la vicenda di Giobbe mette in risalto innanzitutto questa dimensione orante, invocante, dell'essere umano. Giobbe, nella lingua ebraica, porta nel suo etimo la frase che possiamo tradurre in italiano con Giobbe significa dove è il Padre. Che, come capite, è la domanda fondamentale che abita ogni preghiera. Dove è il Padre? Questo significa Giobbe. Dove è il Padre vuol dire qual è il senso della mia esistenza? Chi risponde alla mia domanda? Chi risponde alla mia preghiera? Lo faceva notare Lacan quando dice leggendo Shakespeare leggendo l'Amleto in particolare che la prima funzione del Padre una delle funzioni fondamentali del Padre è, lo cito, fare scudo all'orrore della morte. ed è per questo che la morte di un Padre nella vita di ciascuno di noi è un evento spartiacque perché quando un figlio vede morire un Padre capisce che non esiste scudo possibile nei confronti dell'imminenza della morte. e in fondo i bambini idealizzando il Padre ripongono il Padre come grande riparo rispetto alle incertezze della vita rispetto all'ingovernabilità della vita rispetto al rischio, al pericolo della morte ma la morte di un Padre ci segnala che nessun Dio come direbbe il filosofo ci può salvare nessun Dio ci può salvare non esiste scudo nei confronti della nostra finitudine della nostra fragilità della nostra vulnerabilità ecco, Giobbe porta nel suo nome l'invocazione dove è il Padre e perché questa invocazione si radicalizza nella sua storia conosciamo la vicenda di Giobbe Alberto l'ha molto rapidamente sintetizzata ma io tornerei sopra a quello che ha definito un gioco metafisico una scommessa metafisica sappiamo l'incipit come inizia il libro di Giobbe inizia con una scommessa diabolica con un patto diabolico tra Dio e Satana Satana sei sicuro Satana rivolgendosi a Dio sei sicuro che gli uomini che gli uomini ti pregano e ti amano perché hanno necessità amorevole di te o invece ti pregano e ti amano perché vogliono ottenere benefici da te ti amano sei sicuro in modo disinteressato per autentico amore o ti amano per calcolo come dire l'amore di Dio ha valore solo perché Dio contraccambia l'amore attraverso benefici questo è il dubbio che il serpente insinua nell'orecchio di Dio esiste serpente grande conoscitore degli esseri umani esiste si chiede il serpente chiede il serpente a Dio sei sicuro che esiste un uomo un essere umano capace di amare al di là degli interessi che potrebbe avere attraverso questo amore sei sicuro che esiste una fede pura una fede autentica una fede disinteressata questo è il dubbio Satana è diciamo l'erede del serpente del giardino ci ricordiamo il dubbio che è l'insinuazione del serpente in Genesi nel giardino ad Adamo ed Eva ma perché Dio non vuole che voi godiate dei frutti dell'albero della conoscenza non è forse questo Dio un Dio geloso invidioso rancoroso che vuole tenere tutto il potere per sé dubbio che il serpente introduce nell'umano e adesso invece Satana introduce un dubbio che riguarda l'umano non Dio il serpente introduce nell'umano un dubbio che riguarda Dio Satana introduce in Dio un dubbio che riguarda l'umano ma sei così sicuro che ti amano davvero ti amano oppure gli sei utile gli servi ti amano o gli servi questo è il grande dubbio allora Dio rimane colpito dal dal cinismo della riflessione di Satana e accetta la scommessa in che cosa consiste la scommessa prendiamone uno prendiamo un santo prendiamo un uomo giusto un uomo retto un uomo timorato di Dio sono tutte citazioni non sto a citarvi versetti diciamo prendiamo dunque Giobbe che è riconosciuto uomo giusto retto timorato di Dio togliamogli tutto gettiamolo nella polvere e nella cenere e verifichiamo se una volta caduto nella polvere e nella cenere quest'uomo ti ama ancora questo è la posta in gioco drammatica posta in gioco e che cosa accade che Giobbe viene lentamente drasticamente spogliato di ogni cosa prima gli averi il bestiame gli affari la casa poi gli affetti i figli uno dopo l'altro muoiono la moglie si allontana e infine la frusta di Dio colpisce il corpo di Giobbe riempiendolo di piaghe nudo e rasato caddi nella polvere e nella cenere Giobbe che era un uomo ricco con una reputazione riconosciuta nobile la cui vita era capace di generare frutti si trova ad essere poco meno di uno straccio e dunque Giobbe e dobbiamo immaginarcelo a questo punto come appunto nudo rasato caduto nella polvere e nella cenere Giobbe che si chiede chi è il mio Dio io ho sempre servito Dio non merito la sventura che mi colpisce ma ancora di più ma Dio non è il Dio del patto il Dio della legge il Dio dell'alleanza il Dio padre che appunto è per me scudo riparo nei confronti della morte della malattia non è questo il mio Dio e perché incontro sempre Giobbe adesso un altro Dio un Dio perfido un Dio che mi incalza come un leone un Dio che mi ruba tutto che mi strangola sono tutte espressioni di Giobbe che mi strangola che mi stritola che mi soffoca che non mi lascia riposare neanche nei miei sogni che appare nella forma dell'incubo perché Dio si è trasformato da amico padre in un leone aggressivo in un nemico questa abbiamo la trasfigurazione di Dio non c'è più il Dio della legge il Dio del patto il Dio mosaico adesso in primo piano è il Dio feroce che colpisce in calza Giobbe che vuole la sua pelle quindi vedete il libro di Giobbe è anche un libro non solo sul senso della sofferenza che adesso vedremo del dolore della malattia ma anche un libro che interroga la natura di Dio dove è il padre qual è la natura di Dio la sua potenza può essere arbitraria folle può essere persecutoria noi siamo tutti cioè in balia della potenza di Dio che può fare di noi quello che vuole allora il presupposto di questo ragionamento di Giobbe è in fondo una concezione di cui Giobbe stesso è prigioniero e di cui noi per certi versi siamo in parte prigionieri e di cui il libro di Giobbe racconta la difficile evasione da questa prigione che è una concezione retributiva della legge e cioè che è la concezione mosaica della legge nel Deuteronomio voi trovate questa rappresentazione della legge cioè chi fa il bene ha il bene chi è giusto sarà benedetto chi fa il male avrà il male chi fa il male sarà maledetto questa diciamo è la la dimensione lapidaria della legge retributiva proporzionale non solo chi fa il male avrà il male e chi fa il bene avrà il bene ma chi fa il bene avrà il bene in proporzione al bene che fa e chi ha il male avrà il male in proporzione al male che fa quindi la legge della retribuzione è una legge equilibrata proporzionale e Giobbe si chiede ma io ho sempre fatto il bene e perché ricevo il male questo è lo scandalo lo scandalo è non solo lo scandalo della sofferenza che colpisce l'uomo giusto che colpisce l'innocente ma è lo scandalo che investe la struttura stessa della legge di Dio perché i malvagi prosperano su questa terra si chiede Giobbe ci chiediamo tutti tutti siamo un po' Giobbe perché i malvagi prosperano perché gli innocenti sono colpiti dalla sventura la legge di Dio non dovrebbe essere una legge giusta o Dio consente l'ingiustizia e allora la legge di Dio è una legge cieca noi abbiamo per entrare proprio nel cuore di questo grande problema che il libro di Giobbe pone abbiamo un romanzo romanzo molto importante che ai medi è ritornato di attualità col covid uno dei libri più letti durante questa epidemia e che è stato un libro per me fondamentale nella mia formazione diciamo giovanile un libro che mi appassionò molto che è La peste di Albert Camus La peste è la storia di un'epidemia che travolge una cittadina francese semina la morte e in questo romanzo che non voglio riassumere ma di cui voglio fare riferimento solo a due poche pagine pagine centrali di questo romanzo descrivono due diverse prediche che il pastore della città tiene al suo popolo nel momento della diffusione del male allora dobbiamo immaginarci la prima predica quando i morti si contano sulla punta delle dita di una mano la chiesa è affollata di gente impaurita smarrita e chiede dunque al proprio padre spirituale una bussola una direzione la prima predica afferma una teologia della maledizione che è qualcosa che abbiamo ascoltato anche ahimè in questo momento della nostra esistenza collettiva sicuramente abbiamo ascoltato echi di questa teologia della maledizione al tempo dell'epidemia dell'AIDS se vi ricorderete o al tempo anche dello tsunami che sconvolse le coste le coste indiane qualche anno fa che cosa sostiene questo prete nella sua prima predica si chiede qual è il significato della peste e la sua risposta è chiara inequivocabile la peste ha come unico significato quello di punire i nostri peccati la peste è la frusta di Dio che si accanisce sulle nostre esistenze che si sono allontanate dalla sua legge la peste è il castigo del Signore abbiamo sentito queste cose nel 2000 ancora è un delirio religioso un delirio teologico dunque la peste non è semplicemente il male che affligge le nostre vite ma è l'occasione che noi abbiamo per purificare le nostre vite dalla corruzione e dal peccato la peste è il segno della provvidenza di Dio la malattia è il segno del peccato dobbiamo sottolineare questo punto la malattia è il segno del peccato questo è il nucleo fondamentale della teologia della maledizione che ha una presenza nel testo nella Torah una presenza significativa pensate per esempio solo solo alle piaghe che colpiscono l'Egitto alla violenza di Dio contro Sodoma e Gomorra ma pensate anche a tutta la vicenda anche questa di grande attualità di Noè del diluvio che cosa dicono le acque del diluvio dicono l'essere umano è corrotto si è pervertito si è allontanato dalla legge di Dio dunque deve essere cancellato dalla faccia della terra e solo il giusto sopravvive Noè Noè è il resto giusto dell'umanità che sopravvive si sottrae alla violenza di Dio Noè non è scandaloso la figura di Noè il male viene annientato il giusto sopravvive all'annientamento del male rientra diciamo in una in una logica teologica chiara ma Giobbe Giobbe è lo scandalo e allora questo prete cerca di convincere il suo popolo che la peste è diciamo il castigo del del loro Dio per i loro peccati che cosa accade tra la prima e la seconda predica accade che la peste uccide e uccide non solo i malvagi non solo i corrotti uccide anche i bambini e questo prete fa esperienza drammatica in pagine molto toccanti della morte di un bambino tra le sue braccia dunque la morte si dissemina nella città la peste è cieca colpisce il giusto e il malvagio l'anziano e il bambino allo stesso modo e dunque una volta che la popolazione è decimata dalla peste il prete convoca una seconda grande riunione col suo popolo in chiesa d'inverno Camus la descrive come una chiesa semideserta la gente ha paura di uscire di casa distanziamento è un clima che conosciamo diciamo poche persone spaventate terrorizzate e il prete parla non più dal pulpito dice Camus non si rivolge al suo popolo dicendo voi peccatori cammina tra la sua gente dice noi e si chiede adesso dopo aver fatto esperienza del dolore dell'innocente non c'è niente scrive Camus in un testo più filosofico non c'è niente di più assurdo della morte di un bambino non c'è niente di più scabroso di più scandaloso della morte dell'innocente cioè della vita che non ha peccato allora questo prete dice ho sbagliato tutto ho raccontato una delirio la peste la peste non è il castigo di dio noi come umani non possiamo comprendere il significato della peste se la peste ha un significato noi umani abbiamo dunque allora l'essenziale è chiaro che Camus ha letto molto attentamente il libro di Job prima di scrivere la peste l'essenziale seguitemi su questo punto che questo prete nella seconda predica dissocia il male dal segno il male non è un segno nel testo biblico spesso il male è un segno il segno della punizione di dio le piaghe d'egitto il segno della punizione questo prete e noi stessi con Job dobbiamo imparare a dissociare il male dal segno il male non è il rimborso necessario per i nostri peccati il male è illegibile dice questo prete il dolore è illegibile la sofferenza è illegibile c'è un mistero nel dolore nella sofferenza nel male e a noi cosa noi cosa possiamo fare si chiede non leggere il male a partire dal paradigma della teologia della maledizione che è un paradigma falso noi possiamo provare a resistere al male e fa questo racconto molto bello su cui non ho il tempo di soffermarmi dice c'è stata un'altra peste tempo fa che ha colpito un'altra città c'era un monastero c'erano 66 monaci alcuni sono morti altri sono scappati ma uno è rimasto e questa è la verità etica che il prete consegna al suo popolo noi dobbiamo essere quelli che sanno rimanere che sanno restare se volete questa è un'immagine straordinaria della cura cos'è prendersi cura anche quando per esempio una malattia è mortale non c'è speranza di cura ma cosa vuol dire prendersi cura quando non c'è speranza di cura significa saper restare vicino a chi sta male non andar via saper restare noi dobbiamo essere quelli che sanno restare così si conclude la seconda predica torniamo a Giobbe Giobbe dunque è il simbolo del dolore dell'innocente porta con sé la sovversione radicale della teologia della retribuzione la teologia della retribuzione non è una verità assoluta anzi la realtà spesso la sconferma gli amici che vengono a soccorrere Giobbe sono dei rappresentanti di questa teologia scolastica e dicono a Giobbe Giobbe hai una sola possibilità di mettere fine a tutta questa sofferenza pentiti il tuo pentimento porrà fine al tuo dolore gli amici ragionano sul presupposto della teologia della maledizione cioè se il destino si accanisce contro di te è perché tu hai una colpa dunque pentiti della tua colpa e la sventura il male la sofferenza cesseranno e tornerà l'amicizia con Dio e Giobbe risponde come potrebbe rispondere il bambino morto di peste nel racconto di Camus Giobbe risponde ma io non ho niente da pentirmi non mi pento di niente io non solo non mi pento vedete Giobbe figura di lotta Giobbe non è figura della rassegnazione non è figura della pazienza Giobbe è impaziente Giobbe è una figura della lotta perché perché dice io non ho niente da pentirmi non mi voglio pentire rifiuto la logica del pentimento perché se accettassi la logica del pentimento allora dovrei giustificare la teologia della retribuzione sei sventurato perché hai peccato ma io non ho peccato dunque che cosa chiede Giobbe l'unico uomo in fondo che lo chiede in tutta la Bibbia chiede faccia a faccia con Dio chiede di incontrare Dio vederlo faccia Giobbe è veramente è l'ostinazione della fede che non cede voglio vederlo in faccia e voglio chiedergli ragione di quello che mi sta accadendo ecco il passaggio il grido di Giobbe significa che diciamo gli amici medici da nulla li definisce Giobbe parlano di Dio i teologi parlano su Dio Giobbe vuole parlare con Dio l'ambizione di Giobbe è parlare con Dio non accade mai nella Bibbia che questo avvenga Dio parla agli uomini certo Dio parla a Mosè Dio parla ad Adamo a Eva a Caino dove è tuo fratello Dio parla ad Abramo appunto ma l'uomo non può rivolgersi a Dio Dio si rivolge all'uomo nella Bibbia abbiamo un'eccezione a questo schema ed è Giobbe Giobbe vuole dobbiamo immaginarcelo ce lo possiamo immaginare come nei film il duello con la pistola vuole incontrare faccia a faccia il suo amico che è diventato nemico e chiedergli conto perché i conti i conti non tornano i conti nella vita in generale non tornano mai nella vita di Giobbe paradigmaticamente i conti non tornano e dunque gli chiede non con arroganza prometeica Giobbe non è una figura greca è la fede che porta Giobbe a dire ma io il mio Dio lo voglio vedere in faccia voglio che mi spieghi voglio che mi dica e qui abbiamo la parte finale del libro è un unicum in tutta la Bibbia ci aspetteremo che come accade nel Gezzemani a Gesù Dio non risponda Padre perché mi hai abbandonato nella notte del Gezzemani Gesù fa esperienza radicale della non risposta di Dio del Padre e in fondo anche nell'ultimo film di Scorsese intitolato proprio Silenzio c'è questo grande tema del fatto che Dio non risponde Dio non risponde la non risposta è una definizione della postura di fondo di Dio rispetto alla preghiera e nel caso di Giobbe invece noi abbiamo Dio che a un certo punto appare sulla scena dobbiamo immaginarcelo è un racconto biblico io sono un laico non sono un religioso ma diciamo se mi sforzo di immaginare questa scena prodigiosa in cui Dio non sappiamo che l'autore del testo non ce lo dice quale aspetto Dio abbia ma sappiamo che Dio incontra Giobbe i duellanti si incontrano faccia a faccia e Giobbe ha la possibilità di porre a Dio davanti faccia a faccia la sua questione ma prima di vedere cosa Giobbe dice a Dio perché Dio appare a Giobbe perché Dio fa l'apparizione perché Giobbe ha ragione gli amici hanno torto e questa è la prima cosa che Dio dice gli amici non hanno capito niente gli amici ragionano a partire dalla appunto teologia della retribuzione da una concezione formale della giustizia bene a chi fa il bene male a chi fa il male non è così semplice quindi sgrida gli amici il loro un ritornello dice un ritornello conformistico la vita la vita gli smentisce costantemente e prende invece sul serio il grido di Giobbe e quindi risponde al grido e Giobbe pone la sua questione perché il giusto perché chi ha vissuto nella legge viene colpito dalla legge perché chi ha fatto il bene riceve il male e Dio gli risponde non direttamente questa domanda la prende diciamo un po' più larga e dice dov'eri lo cito a memoria insomma dov'eri tu quando io facevo la terra dov'eri tu quando io facevo il cielo dov'eri tu quando io ho fatto esistere l'evento prodigioso del mondo che ne sai tu e di fronte a questo che cosa vediamo apparire dov'eri tu quando facevo la terra sarebbe a dire traduco laicamente che ne sai tu del mistero della creazione allora abbiamo già tre immagini di Dio molto differenti la prima immagine è il Dio della mosaico della legge della retribuzione della legge positiva e oggettiva direbbe Hegel poi abbiamo il Dio persecutorio il leone che scommette con Satana e che metta la prova nel modo più drammatico possibile forse solo Abramo a cui Dio chiede con una prova altrettanto sconcertante di uccidere il proprio figlio Isacco e poi abbiamo questa terza immagine di Dio potente immagine di Dio che è il Dio della creazione cioè della donazione del mondo e questo Dio ricorda Giobbe io ho donato vi ho donato il mondo la creazione è un atto di donazione ed è un atto talmente immenso talmente infinito è lo splendore del mondo è talmente immenso talmente infinito che tu umano nei tuoi limiti non puoi carpirne il segreto il mistero mette cioè Giobbe di fronte alla sua finitezza alla sua fragilità alla sua finitudine prima dicevo Giobbe non è prometeo non ha arroganza non vuole farsi Dio come Adamo ed Eva quando invece mangiano l'albero della il frutto dell'albero della conoscenza per farsi come Dio Giobbe non vuole farsi Dio per la Bibbia volersi fare Dio da parte dell'uomo è la definizione più clinica possibile della perversione umana non è un testo moralistico certo ci sono delle parti anche moralistiche ma l'essenza del testo biblico per come io la leggo non è mai moralistica cioè il peccato il solo peccato possibile dell'umano è voler essere come Dio nella Torah nei Vangeli si potrebbe dire che il solo peccato possibile dell'umano è non dare frutti restare un albero sterile sono due forme di peccato per niente moralistiche non è il peccato è che non ti adegui non ti conformi alla legge peccato è quando l'uomo vuole sapere tutto il sapere vuole sapere il sapere impossibile da sapere vuole sapere il sapere della creazione del mondo vuole confrontarsi appunto col sapere di Dio e Dio gli dice sei di fronte a un mistero e in effetti nel testo biblico noi vediamo queste due questa grande contraddizione che lo attraversa da una parte il mondo è lo splendore della vita è lo splendore del bestiame è lo splendore dell'erba dei prati del cielo della terra è lo splendore di tutti gli esseri viventi è lo splendore del mondo è la luce del mondo l'evento del mondo è l'evento della luce dall'altra parte la Torah ci ricorda sempre che noi siamo polvere per un verso siamo immagine e somiglianza di Dio per un altro verso noi siamo polvere destinata a tornare polvere questo enigma di questa oscillazione è inesplicabile per l'umano questo Dio segnala a Giobbe e Giobbe dice ho sbagliato c'è questa rettificazione non si pente Giobbe cito è un principe non si pente giustamente giustamente rifiuta il pentimento non è una figura della colpa non è una figura del pentimento non è una figura sacrificale per niente Giobbe ama la vita e quindi non vuole soffrire proprio perché ama profondamente la vita però riconosce di aver sbagliato dove ha sbagliato Giobbe a voler come dire spingersi fino a carpire il segreto profondo della creazione quindi Giobbe è rimasto attenzione questo è il punto finale che secondo me insomma illumina tutto il libro Giobbe è rimasto egli stesso vittima della teologia della retribuzione egli stesso ha creduto a quella versione della legge poiché ha fatto il bene poiché la sua vita era vita di santo avrebbe dovuto continuare a ricevere bene come l'ha ricevuto per gran parte della sua vita quindi quella teologia che tutto il libro di Giobbe mette sotto sopra è stata la grande illusione che ha nutrito la vita stessa di Giobbe di cui adesso Giobbe si accorge che tale era cioè una pura illusione e allora Giobbe riesce a staccare la sofferenza dal segno la malattia non è un castigo questo è molto liberatorio la malattia non è un castigo il male non è la frusta sadica di un dio faraonico tirannico il male porta con sé il segreto della creazione il segreto irraggiungibile intraducibile grazie 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 va ancora state bene questo periodo quando ci si vede la prima cosa è stai bene state bene bene arrivederci grazie grazie